Buonasera a tutti, eccoci nuovamente insieme per la nuova tradizione di Sardegna nel pallino, parleremo di quanto è stato fatto nell'ultimo fine settimana e in questa settimana per quanto riguarda i campionati di società di Serie A, di Serie A2, nei campionati femminili e anche nei campionati di promozione che riguardano la prima, la seconda e la terza categoria. Incominciamo a parlare subito di Serie A, cominciamo a parlare di Serie A che la scorsa settimana non ha visto giocare nessuno, si è riposato, ma per preparare un'ultima settimana che vede domani giocare le partite capocavallo in casa contro l'Invois Cagliari, il Bovil Marino contro il Movi System di Rimini, il Fossombrone contro la bocciofila Possaccio e la Rubierese contro il Fontespina. Una giornata decisiva, una giornata veramente decisiva perché la classifica in questo momento vede il Bovil con 30 punti, seguito dal Possaccio con 28, il Fossombrone con 23, la Rubierese con 18, Fontespina 15, Movi System con 12, Capocavallo e Invois Cagliari con 5 punti, Capocavallo con 7 e Invois Cagliari con 5. Quindi vi sarà questa partita, questo scontro fra l'Invois, fra il Capocavallo e l'Invois Cagliari. Diciamo che è una partita che vede queste due squadre ormai retrocesse, che però per soddisfazione andranno a giocare la prete insieme. Per l'Invois Cagliari sarà la possibilità di conquistare la prima vittoria, la prima e unica vittoria in questo campionato. Noi naturalmente ai ragazzi di Elio Fares gliel'auguriamo perché una squadra che ha partecipato sportivamente a questo campionato nonostante sapesse di avere le forze inferiori a tutte le altre squadre. Comunque una presenza dignitosa che fa ben sperare, anche se dovrà retrocedere in A2, che farà ben sperare per il prosieguo della stagione e per il prosieguo naturalmente per la preparazione della prossima stagione. Questo riguarda la Serie A. Per quanto riguarda la Serie A2 invece ha riposato lo stesso la scuola settimana e questa settimana prepara una, anzi riposerà questa settimana, la settimana scorsa ha giocato un fine settimana veramente molto, ma molto importante perché aveva visto giocare la Villa Assunta contro il Sarno, una partita vinta per 6 a 2 dal Villa Assunta, per vedere il derby di Sassari, la Salles e la Gallegge del Sesto, finita col punteggio di 5 a 3 a favore della Gallegge del Sesto, le immagini che noi vediamo si riferiscono proprio a questa partita giocata a Sassari sulle corsie del bocciodromo di San Giovanni, quello della bocciadoro per essere molto esatti, della nuova bocciadoro e infine aveva visto il Martano subire una sconfitta in casa contro la termosola di settimo, veramente una partita entusiasmante per la formazione del comunale settimo che ci ha fatto veramente molto felici perché questa squadra era partita molto piano ma poi ha trovato un'escalation tale da portarla a pensare di conquistare in classifica anche una posizione interessante e questo è veramente molto per la formazione di settimo, una formazione veramente che quest'anno ha fatto molto ma molto bene. La partita del club, che è quella ripeto vi stiamo mostrando le immagini, era quella tra il CB Sassari e la Gallegge del Sesto, una partita emozionante che si è risolta nell'ultimo set della coppia quando la formazione formata del Sassari aveva lasciato ben sperare di poter conquistare quantomeno un pareggio e invece la formazione Piras e Semiuni sul punteggio di 7 a 1 avendo avuto la possibilità di giocare per ben due volte le bocce per mettere insieme i punti per arrivare all'otto non vi è riuscita e ha subito quindi la rimonta dei giocatori di Cagliari che hanno avuto la possibilità così di conquistare l'intero punteggio in palio. Questa naturalmente questa vittoria della Gallegge del Sesto proietta la formazione della Gallegge verso una promozione in Serie A veramente molto ma molto interessata oltre che meritatissima per la verità. Ecco questo è il proscemio anche della campionato di Serie A2 che vedrà il giorno 29 giocare Sassari e Flaminio in casa, Sassari in casa sempre sulle corsie della boccia d'oro, la Gallegge del Sesto giocare in casa con la Virtus Assunta va bene e il Bartano giocare con la città di di Sarno. Anche questo è il panorama che abbiamo visto nel campionato di A2 che in questa settimana, vi ripeto, sta riposando. Sono giocante che le partite del campionato di società femminile e la vittoria è arrisa, la vittoria nella classifica è arrisa alla formazione di Serramanna che dovrà giocare la partita di Interzone, valida per partecipare alle finali nazionali contro il Flaminio. La data di questa gara ancora non è stata stabilita, avrebbero dovuto giocare in questa settimana, cioè la prossima settimana, invece così non è stato poiché il Flaminio avendo un impegno con un'altra formazione ha chiesto alla federazione di poter rinviare questa gara. Si sta attendendo che le due formazioni si mettono d'accordo per poter decidere la data di partecipazione. Questa è veramente una grande soddisfazione per Serramanna, la prima volta che partecipano a finale Interzone e ripeto, è anche una formazione che ha giocato veramente un campionato femminile, perché in San Diego erano ben cinque squadre che partecipavano, quindi un campionato molto impegnativo, terminato anche in poche settimane, perché si giocava il sabato e la domenica. Comunque la vittoria è andata meritatamente al Serramanna che adesso dovrà vedersela con il Flaminio. Adesso lo vediamo in chiusura di tradizione, vediamo i campionati di società di prima, seconda e terza categoria. Vediamo subito i risultati della scorsa settimana, dell'ultimo weekend e anche quelle partite disputate anche in questa settimana, le anticipazioni, che hanno visto quindi la prima categoria, la boccia d'oro, perdere in casa contro il Sacuore per 3 a 5, il Cibi Sassari pareggiare la parita col Concordia per 4 a 4 e l'Ittirese nell'altro girone, quello della Gallura tanto per l'intensa deve vedere l'Ittirese giocare contro l'Aliento in casa e vince la parita per 7 a 1. In seconda categoria invece, sempre la squadra dell'Ittirese, ha pareggiato col Cibi Sassari 4 a 4 in casa, la boccia d'oro ha pareggiato sempre in casa e sempre con l'Ittirese 4 a 4, quindi questa era un'ulteriore partita che ha giocato l'Ittirese nel capire, secondo la categoria evidentemente doveva recuperare qualche gara e il Concordia pareggiare col Cibi Sassari per 4 a 4. Per quanto riguarda invece la terza categoria, si sono avute le partite del Concordia contro il Gallura vinta per 8 a 0 e il Sacrocore che ha battuto il Concordia per 5 a 3. Si sta giocando questa serata, va bene, in questa sera sta giocando appunto il campionato di promozione di prima categoria, due partite veramente molto, ma molto importanti che sono quelle che vedono a Sassari sulle corsie del Sacrocore, il Sacrocore giocare contro il Cibi Sassari e alla San Giovanni, la boccia d'oro, la nuova boccia d'oro, giocare la parità contro il Concordia, vi ripeto, questi sono due partite molto interessanti di prima categoria, mi pare di non avere nient'altro da aggiungere, avrei detto tutto, va bene, per cui vi ringrazio naturalmente per l'ascolto e vi do appuntamento sempre a venerdì per l'ultimo e sempre alle ore 19. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.